Studiamoci cari amici l'outfit che ha utilizzato Maria De Filippi che abbiamo visto al programma C'è posta per te. Sicuramente elegante, sicuramente di tendenza, il look total black conquista totalmente il pubblico. E per questa messa in onda del programma Queen Mary ha deciso così di sfoggiare un capo di lusso di un noto marchio che la conduttrice sembra amare particolarmente, quindi particolarmente, sì, legata a questo marchio qui. Solo che il prezzo è proibitivo, attenzione, non è per le tasche di tutti. Andiamo a capire bene cosa ha indossato e quanto ha pagato. L'outfit di lusso di Maria De Filippi. Un noto marchio che la conduttrice sembra amare particolarmente oltre a quello di Louis Vuitton. Lo avrebbe scelto per diverse puntate di Tusique e Vales e di molte altre di Amici. E adesso anche davanti alle telecamere di C'è poste per te. Una scelta di lusso per l'outfit sfoggiato in puntata e una volta appreso il prezzo rimarrete di sasso. Il capo firmato Alexander McQueen continua a fare breccia anche nel cuore del pubblico. Infatti l'elegante taier scuro ha ricevuto moltissimi apprezzamenti anche sui social, dove i fan hanno commentato positivamente il look pur non perdendo di vista il prezzo da capogiro. Fisico perfetto. Merito di un allenamento quotidiano. Maria De Filippi, 61 anni portati splendidamente e un gusto sempre originale per il vestiario. Questo, senza badare troppo alle spese, ovviamente. Nello specifico ad attirare l'attenzione di tutti è stato l'elegante blazer nero di Alexander McQueen. La giacca sbottonata con sotto un elegante top di raso, tutto abbinato a pantaloni tono su tono e tacchi a spillo lucidi. Senza dimenticare i dettagli che arricchiscono e rendono il look ancora più originale, come i revera lancia, la tasca a filetto sul petto e la chiusura frontale con bottone. Ma il vestiario di lusso ovviamente non può che avere un prezzo proibitivo. Tenetevi forti. L'outfit indossato da Maria De Filippi vanta un prezzo pari a ben 1395 euro. Ma che la conduttrice sia appassionata di moda e che per questo non badi troppo alle spese, non sembra essere una novità. Un look sempre nuovo, che si alterna tra tubini bonton, abiti smanicati, vestiario rock ma anche sportivo. Maria De Filippi, regina della televisione di italiana. La scelta anche nel vestiario sembra essere sempre la migliore.